Abbiamo visto nello scorso video come sfruttare il dodge and burn per accentuare la lucentezza e la profondità dei ritratti, però in maniera manuale vediamo in questo video invece come farlo sfruttando le luci già esistenti nella scena. Vediamo ad esempio questa immagine che è già stata lavorata con il metodo della separazione delle frequenze. Vi lascio il link al tutorial in descrizione. Per andare ad accentuare la brillantezza sfruttando le luci esistenti, ad esempio queste qui sul viso e sulle guance, non dobbiamo far altro che creare pochi livelli di regolazione. Dobbiamo creare un livello curve ed andare ad alzare un po' come abbiamo fatto con il metodo del dodge and burn di qualche punto. Andiamo a spegnere attualmente questo livello, poi andiamo a creare un altro livello curve e lo andiamo ad abbassare. Quindi è praticamente quasi lo stesso metodo rispetto a quello del dodge and burn manuale. Andiamo sulle alte luci, facciamo un doppio clic nella parte vuota e si aprirà lo stile di livello, quindi potremmo regolare tutte le impostazioni del livello. Dobbiamo praticamente andare a rimuovere dalla zona delle ombre il livello curve che abbiamo appena creato, quindi dobbiamo spostare lo slider del livello sottostante, mi raccomando è importante lavorare su questo e non su questo livello, e andiamo quindi a trascinare lo slider delle ombre verso destra. Come vedete stiamo escludendo tutte le parti dell'ombra andando a selezionare solo le parti delle luci, solamente che risulta essere abbastanza duro e marcato. Per far sì che la sfumatura tra la zona d'ombra e luce sia più morbida, non dobbiamo fare altro che premere Alt e trascinare il cursore facendo un clic verso destra. Come vedete si separeranno, in pratica ora cosa stiamo andando a fare? Stiamo andando a creare una sorta di sfumatura, infatti come potete vedere, se vado a spostare lo slider da qui sto includendo tutto nell'immagine, mentre se lo sposto più al centro sto escludendo la zona delle ombre, quindi sto andando ad enfatizzare solamente la zona delle luci. Ovviamente spostando questo tutto a destra si andrà a creare una sfumatura molto morbida e quindi l'effetto sarà più morbido, mentre se vogliamo creare un effetto più duro, quindi rendere le luci ancora più marcate, dobbiamo spostarlo più verso sinistra, ma consiglio di non farlo troppo, se no succede come potete vedere dall'immagine che sia un effetto troppo marcato. Quindi lo sposto, ma non troppo, verso destra, mentre questo qui lo vado a spostare accentuandomi al momento la zona sulla fronte e vado a selezionare ok, quindi come potete vedere ho già dato un po' di luce sulla zona della fronte. Andiamo a vedere adesso per quanto riguarda la parte di scudita, facciamo sempre un doppio clic, questa volta però dobbiamo andare a discludere le zone di alta luce, quindi prendiamo il cursore dei bianchi e lo trasciniamo verso sinistra. Andiamo di nuovo a splittare con Alt, lo spostiamo tutto a sinistra e andiamo a trascinare questo fin quando il risultato è gradevole e ci piace. Andiamo ad abbassare leggermente l'opacità di questo livello e di questo livello. Se mettiamo questi in un gruppo possiamo già vedere un prima e dopo dell'accentuazione che abbiamo creato. Adesso in questo caso se voglio ad esempio andare a dare più luce sulle guance vado sempre all'interno del gruppo a creare un nuovo livello di regolazione curve alzando sempre perché stiamo andando a regolare delle luci faccio sempre un doppio clic e vado ad escludermi tutto il resto tranne che le guance, ad esempio che sono queste. Vado poi a sfumare la maschera in questo modo. Se il risultato mi è gradevole su tutta la foto lo lascio così su tutta la foto mentre se voglio che agisca solamente sulle guance vado ad agire sulla maschera, l'inverto con CTRL I prendo un pennello bianco con opacità e flusso al 100% e vado a pennellare qui sulle guance. Ovviamente queste regolazioni sono possibili farle anche su zone più mirate infatti vediamo già un prima e dopo dell'immagine mentre vediamo quest'altra immagine sempre lavorata con la separazione delle frequenze come accentuare sempre e andare a collegere alcune cose all'interno dell'immagine. Creiamo sempre un livello di regolazione delle curve sia per le zone di luce che le zone di ombra attiviamo per la regolazione delle alte luci spostiamo di nuovo lo slider delle ombre lo splittiamo sempre tenendo premuto alto e decidiamo quanto deve agire sulle zone di luce poi selezioniamo il livello delle curve per quanto riguarda le zone d'ombra andiamo a portare verso sinistra lo slider delle luci così da escluderle sfumiamo al massimo la sua capacità più o meno al massimo e scegliamo il valore che più ci aggrada mettiamo questo all'interno del gruppo e possiamo già vedere un prima e un dopo come vedete l'immagine è quasi totalmente cambiata ad esempio adesso se voglio andare a scalire questa zona delle labbra mantenendo comunque le luci e le ombre che sono già presenti quindi non andando ad agire perché questo metodo ci è comodo? perché va a ridurre il range tra zone di luce di ombre e mezzi toni e quindi possiamo scegliere solamente dove deve agire se sulle ombre, sulle luci o sui mezzi toni creiamo ad esempio un altro livello di curve alziamo un pochino e andiamo sempre qui ad alzare lenzone di ombra vediamo che in questo caso sta agendo sulle labbra lo splittiamo sempre premiamo ok e in questo caso invertiamo la maschera e con il pennello andiamo a mascherare di bianco dove vogliamo che l'effetto sia applicato appunto come vedete abbiamo già recuperato un po' la luce delle labbra ovviamente possiamo sempre agire sulle proprietà quindi andando ad accentuare ulteriormente in questo caso le labbra stiamo uniformando la luminosità che c'è sia a destra che a sinistra e ho recuperato anche un po' di luce sotto l'occhio quindi vediamo un prima e dopo e come vedete la foto ha acquistato tridimensionalità e più enfasi il tutorial finisce qui io spero che questa serie di video vi stia piacendo se avete dei video e dei suggerimenti per altri tutorial lasciatemeli qui sotto nei commenti vi ricordo di supportarmi lasciando un mi piace e di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina delle notifiche ci vediamo in un prossimo tutorial un saluto da Marco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti